Anche adesso che sono passati tutti questi anni, riesco ancora a ricordare chiaramente il paesaggio della mia infanzia e mi commuovo. Mi ricordo quando ero bambino, piccolo e verde. Venivo qui d'estate e la campagna era per me un paese di misteri, piccoli e verdi. Mi ricordo il sole di quell'estate, il suo riverbero ovunque intorno a me, il caldo che più che scendere dal cielo sembrava venire dalla terra, un caldo che mi piaceva, che aveva un odore. Mi vedo bambino, ci sono dentro anch'io in quell'odore di fieno, di terra cotta dal sole d'agosto, di fichi maturi. Io ho tutto sudato e sulle labbra il sapore di tutti i miei sogni e di tutti i miei desideri che stavano sbocciando sotto quei raggi di sole. Questo lavoro nasce da una collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese che mi ha chiesto di creare un'opera che potesse avvicinare i ragazzi all'opera e alla vita di Cesare Pavese. È stata per me un'immersione di un anno nella vita, nelle opere di Pavese e anche nei luoghi a lui più cari, che sono le Langhe, in particolare Santo Stefano Belbo. È stata un'immersione che è stata innanzitutto di studio, ma poi di scrittura, di riscrittura, di lavoro sul linguaggio, che ha prodotto questo romanzo. Negli occhi di Luna i Falò, un romanzo sulle tracce di Cesare Pavese, edito da Rizzoli. È un romanzo ponte, non è né una riscrittura, chi sono io per farlo, e nemmeno un riassunto. È un romanzo che ha una sua trama, una sua struttura, dei suoi personaggi originali, dei colpi di scena, però ambientato nelle Langhe e tratta le tematiche tipiche di Pavese, quindi l'identità, l'appartenenza, l'immersione nella natura, il mito, la figura femminile, la città, il recupero dell'infanzia. Tutto questo per far gustare, pre-gustare e indicare ai ragazzi un grande classico che è la Luna i Falò, che poi potranno leggere quando sarà il momento. Però è una sorta di romanzo ponte, un ponte verso un grande classico che, a mio parere, va letto integralmente e nel momento giusto. Una delle tematiche principali che ho trovato nell'opera di Pavese è la ricerca di una coincidenza tra scrittura e vita. Le sue ultime parole sono state, non più parole, un gesto, non scriverò più. La parola è il gesto, la scrittura è la vita. Credo che Pavese ci abbia indicato in maniera molto chiara l'altra riva, quella della vita. La sua opera è un'opera che trassuda di vita. Poi non è riuscito a raggiungerla, ma ce l'ha indicata molto chiaramente. Per me questo è stato il motivo su cui si basa tutto il mio romanzo. Valorizzo in questo romanzo tutta la sete di vita che emerge dall'opera di Cesare Pavese. Certa critica letteraria è partita dalla morte di Pavese per spiegare tutta la sua opera e tutta la sua vita. Credo non sia un atteggiamento onesto. Anche perché, ripeto, la sua opera, tutte le sue opere hanno sempre questo elemento di ricerca, di creare un'unità tra vita e scrittura.